in seguito alla decisione di xbox di chiudere quattro studi del gruppo zenimax è ritornato alla ribalta il mantra dell'insostenibilità del game pass che il servizio sia un prodotto complesso e di non facile lettura questo è ovvio sia ai sostenitori che ai detrattori ma questi ultimi sempre più rumorosi continuano a non convincermi particolarmente da grande fan dell'innovazione non posso mai fare a meno di restare affascinato da qualsiasi tentativo di affrontare vecchi problemi con nuove soluzioni quello che mi manca nelle manifestazioni di dissenso del popolo anti game pass è proprio l'incapacità di cercare soluzioni cosa che non puoi fare se non conosci e capisci le cause dell'eventuale problema dire che il game pass non è sostenibile è un po come dire che il nostro attuale governo non fa nulla a favore del riconoscimento dei diritti civili entrambe le affermazioni potrebbero essere vere ma senza una chiara individuazione delle criticità l'affermazione rimane fine a se stessa allo stesso tempo denunciare un problema e non ipotizzare nemmeno delle probabili soluzioni fa sembrare il dibattito svogliato fa quasi pensare che si voglia mettere più in luce se stessi e la propria indignazione piuttosto che discutere magari risolvere il problema stesso diciamocelo è comprensibile che il più comune fruitore di videogiochi non sia a conoscenza e forse nemmeno interessato ai meccanismi economici e industriali dietro la creazione e vendita di un videogioco ma è altrettanto vero che fare determinate affermazioni senza alcun contesto rischia non solo di fare disinformazione ma anche di pilotare in qualche modo l'opinione in modo dannoso per il sistema stesso ovviamente non voglio insinuare che ci sia malafede in questo molto spesso c'è semplicemente inesperienza di certe dinamiche o in alcuni casi secondo me ancora più gravi una rigidità mentale che porta a raffrontare il mercato del gaming moderno con quello di 10 o addirittura 20 anni fa ricordo con amore la mia nonna che non c'è più da tanti anni che quando ero bambino ogni volta che sentivo un tuono mi diceva che fosse il diavolo che gettava la moglie giù per le scale non ho la certezza che la mia anziana nonna conoscesse esattamente i fenomeni che generano il rombo di tuono ma sono certo che non fosse veramente convinta che il diavolo praticasse abusi domestici forse nemmeno che il diavolo avesse una moglie fatto sta che al momento gran parte della conversazione videoludica su aspetti delicati come l'economia dell'industria è poco più che superstizione mista a favola a cui nemmeno chi la diffonde crede ma che dice per rassicurare chi ascolta e permettetemi di dirlo questo è il motivo per cui detesto chi parla al pubblico come a dei bambini perché si finisce che li si istruisce a pensare come tali l'industria del videogioco è in crisi questa è l'unica cosa sicura di cui possiamo discutere i licenziamenti la chiusura di studi sono dei segnali abbastanza forti che è impossibile non vedere eppure crisi non vuol dire sull'orlo del baratro semplicemente il sistema che conosciamo e diamo per scontato per essere virtuoso non funziona più mi dispiace dirlo perché sembra quasi che io voglia giustificare le multinazionali ma loro non hanno tutte le colpe anzi se dovessi fare una considerazione molto cinica sono quelle che più ne stanno pagando le spese spese che poi come con un parafulmine scaricano quasi totalmente sugli impiegati ma questo spero sia inutile da sottolineare tantissime aziende tantissimi investitori si sono scapicollati per accaparrarsi quota nel mercato del videogioco perché in effetti è un settore cresciuto in maniera fulminia il problema è che adesso si sono ritrovati in mano una patata bollente e affrontano il problema nell'unico modo che le aziende conoscono ridurre le spese massimizzare i profitti cercare di replicare i successi inutilmente aggiungerei per cifre abnormi si sono acquistate galline dalle uova d'oro ma queste non sono diventate improvvisamente testiti che semplicemente non ne depongono abbastanza il mercato del gaming è saturo invito chiunque di voi ad ascoltare le dichiarazioni di qualsiasi analista o amministratore delegato capo delle operazioni di qualsiasi azienda del gaming degli ultimi cinque anni e fra le righe leggerete sempre solo un unico messaggio dobbiamo far crescere il numero degli utenti i segnali sono chiari nella recente intervista di sarah bond a dynabas di bloomberg nella decisione di square enix di abbandonare finalmente gli accordi di esclusività in favore di pubblicazioni multipiattaforma nell'intenzione di playstation di pubblicare su pc nella decisione di microsoft di pubblicare le ex esclusive su playstation nell'insistente push giustificata preoccupazione degli organi di controllo mondiali sull'espansione del cloud nell'acquisto di king e nel riassetto economico di riot negli investimenti di netflix su titoli mobile i segnali sono dovunque nel mercato console il trucchetto della revisione hardware e anche della mid gen per un po' ha funzionato ma fondamentalmente le quote di mercato rimangono pressoché immobili titoli con investimenti stratosferici toccano a stento il break even per produrre il più grande blockbuster dell'anno spider man 2 sony ha di fatto preso in prestito una cifra enorme da marvel sotto forma di investimento e ve ne rendete conto che sia così dallo share di marvel sui guadagni di ogni singola copia e bundle come se scoperto dai leak di insomniac che qualcosa non funzioni già da un po' dovevamo capirlo tutti e dovevamo capirlo dal fatto che non ci vengono più comunicati i dati di vendita ma contano davvero i dati di vendita che è una domanda importantissima perché ci riporta la questione game pass parlando in maniera molto generale prendete ad esempio la geniale invenzione di l'aslo joseph birot commercializzata dal barone michel bisch ed eduard buffon questa sapete cosa rende questo prodotto immortale la semplicità il fatto che non ci sia un modo migliore di fare quello che fa se non fosse soggetta a smarrimenti rotture ed esaurimento cosa cui nessuno di noi fa caso visto il costo esiguo il mercato sarebbe saturo di queste e non ci sarebbe modo di venderne di più o di migliori ma cosa c'entra la penna biro con i videogiochi niente così come la sostenibilità o meno del game pass non c'entra nulla con la ristrutturazione economica del mercato del videogioco perché è solo un singolo modello di business che fa male o bene solo all'azienda che ci investe che il game pass sia un male per l'industria del gaming tutta può dirlo solo qualcuno che non si è reso conto che data la saturazione del mercato console il numero di copie vendibili non si armonizza con i costi stratosferici di produzione dei giochi ad alto budget che a dare il maggior profitto sono i free to play e che soprattutto la nuova generazione di videogiocatori se ne infischia del nostro modo di scegliere valutare e possedere un videogioco a questa generazione abbiamo venduto il videogioco come intrattenimento e come tale lo vivono e oggi l'intrattenimento è a servizi netflix spotify eccetera 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 noi ossessionati dall'hardware dal possesso come possiamo capire chi si accontenta di pagare un servizio con un hardware immateriale un gioco digitale per potersi divertire poche ore fra un meeting e una lezione di pilates quando vi dicevo che noi nerd non siamo veramente diventati mainstream mi stavate ascoltando oppure no il game pass è un servizio come gli altri e se davvero non fosse sostenibile farà male solo a se stesso e non all'intera industria non c'entra nulla con l'intera industria se un gioco decide di entrare nel game pass è perché ha necessità di arrivare all'attenzione dei suoi sottoscrittori se sceglie di non farlo evidentemente ha altre strategie che costeranno meno del numero di copie cannibalizzate dall'uscita sul servizio al day one xbox non manda teste di cavallo alle persone per costringerle a pubblicare sul game pass ci sono degli accordi e game pass o meno un publisher ha sempre il coltello dalla parte del manico che possa essere poi deleterio o meno per i titoli first party microsoft è anche questa una scelta della proprietà e visto che è la mentela generale non che totalmente fuori fuoco che microsoft non abbia esitato a chiudere tango softworks perché non produceva abbastanza profitto credete che esiterebbe un solo secondo a chiudere il game pass se fosse solo fonte di perdite credete che cercherebbe di arginare la rottura di una diga con un cerotto non comportatevi da sciocchi il fatto che alcuni giochi escano day and date sul game pass è il suo selling point o sarebbe uguale a tanti altri servizi su cui forse farebbe fatica a imporsi l'attacco da parte di alcuni personaggi di spicco della conversazione videoludica italiana che te li raccomando ai giochi sul game pass e in particolare quelli al day one non è per amore di sostenibilità cosa che vi ho appena spiegato non essere minimamente correlata ma solo verso il fatto che la presenza dei giochi al day one sul game pass dà la possibilità ai sottoscrittori di poterseli provare da soli senza rischio economico perché l'hanno già pagato alla sottoscrizione dell'abbonamento e se i giochi cominciate a provarveli da soli e a decidere da soli se vale la pena investirci tempo attenzione perché no danaro poi la promozione di quei determinati giochi chi la paga più molti di voi lamentano che microsoft non faccia il giusto marketing ma in realtà il modo corretto di dire la cosa è che microsoft ha in italia bypassato in maniera consistente l'influencer marketing e che nel nostro paese il traino maggiore per la scoperta di videogiochi è proprio l'influencer marketing ma cosa serve convincervi ad investire su un gioco se di fatto l'avete già fatto abbonandovi al game pass se all'uscita lo troverete lì e potrete giudicare da soli se fa per voi e soprattutto se così non fosse abbandonarlo senza averci perso un centesimo alla luce di quello che vi ho detto fatevi la domanda giusta non chiedetevi se il game pass sia sostenibile o meno piuttosto chiedetevi a chi nuoce e noterete che molti a cui nuoce sono sempre pronti a dirvi che il game pass è fonte di ogni male cui prodest scelus is fecit Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti